Ho messo anche le impostazioni a due Ho la grafica di neanche Ok spuntano le radici Ok curate le radici, sono il teschio, vi metto pure un Flare Quel fiore centrale cosa fa? E' per Baldarn per pulire le botte, dove ci sono i Flare Ora la radice Ok ottimo, bravissimi Poi dobbiamo entrarci tutti tra 10 secondi Tutti dentro Bravo spin Non credo sia arrivare in prova adesso Carica, occhio No, non abbiamo fatto lì La facciamo dopo E' in fase 2 Ci arriva Arrivare Penso fasi tra poco Ok Mi sono in fase Difensivi Urla Luca Urla Valterra Bravo Nico Ello Ero Ero Sop Sauk 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 Posito andiamo avanti ebbene spuzzatele via, ramizzatele, dobbiamo muore bravissima ma potta ebbene spazatele grazie ebbene spazia ebbene spazia ebbene spazia peccatele Grazie a tutti.